Il programma dei lavori dell'Assemblea programmatica continua, accogliamo adesso sul palco il direttore del Tg2 Gennaro San Giuliano. Buonasera a tutti, tra qualche istante ascolterete Giorgia Meloni, io sarò davvero telegrafico e proverò con un telegramma a spiegare che cosa significa essere conservatori nella storia del pensiero italiano ma nella storia del pensiero mondiale. Agli inizi del Novecento, tre autoproclamati conservatori, Giuseppe Prezzolini, Ardengo Soffici e Giovanni Papini, decidono di organizzare a Firenze nel 1910, sotto la sigla dell'Associazione Nazionalista Italiana, la prima mostra degli impressionisti francesi. Vanno fisicamente a Parigi e si caricano sulle spalle quadri di pittori sconosciuti all'epoca, Matisse, Degas, Monet, Cézanne, li portano a Firenze e fanno questa mostra. I giornaloni dell'epoca, oserei dire il mainstream dell'epoca, decidono di mandare i loro inviati a curiosare che cosa è questa mostra. E quasi tutti i giornali convergono in una definizione, questa non è arte ma sono degli scarabocchiatori, perché l'arte a quell'epoca era un'altra cosa. Come è andata a finire? Se avevano ragione i conservatori, se avevano ragioni i progressisti, lo sappiamo. Oggi un quadro di Matisse o di Cézanne costa milioni di euro, mentre un quadro ottocentesco costa poche centinaia di euro. Quindi quei conservatori, quei visionari avevano ragione. Guardate, il conservatorismo lo dice chiaramente Thomas Mann, premio Nobel per la letteratura, che dice una parola che è apparentemente malfamata, è innanzitutto uno stato d'animo, è una condizione, sarei dire, quasi antropologica della persona, è un'adesione ad un principio e soprattutto ad una visione morale. Nel 1970 l'editore Rusconi chiede a Prezzolini di scrivere il Manifesto dei Conservatori, ne ho qui una copia di cui ho curato la riedizione, e Prezzolini cerca di spiegare e ricordare l'etimologia del termine conservatore. Conservatore viene da un'antica parola indoeuropea, perché tutti quanti discendiamo da quelle tribù indoeuropee che nel 20.000 a.C. si spostarono dall'Asia centrale verso l'Europa occidentale. E il conservatore era il Cnavu, colui il quale la notte guardava il gregge, guardava il fuoco del villaggio. Ovviamente è un simbolismo che significa guardare i valori di una comunità e fare attenzione che quei valori non si spengono, perché se i valori si spengono la comunità soccombe, come in un antico villaggio, se il fuoco si spegneva, le bestie potevano di notte aggredire il villaggio. E questo poi porta Prezzolini a fare un'affermazione che potrebbe essere il manifesto programmatico di questa convention. Dice il progressista è la persona di domani, il conservatore è la persona di dopodomani, perché colui il quale o colei la quale è chiamata a modernizzare una società salvaguardando i valori e l'essenza di questa società. Un autore molto lontano dai conservatori, Norberto Bobbio, quando scrive il profilo ideologico del Novecento Italiano, dice chiaramente che Benedetto Croce e Giovanni Gentile avevano riportato l'Italia all'aria aperta, perché era finita la cappa sfissiante del positivismo. Perché io sono qui a parlare di conservatore? Mi sono laureato in giurisprudenza negli anni Ottanta e l'ho fatto con una tesi sul conservatorismo giuridico. Il mio professore di filosofia del diritto, che è stato un grande filosofo del diritto, preside la facoltà di giurisprudenza di Padova, mi disse ma ti conviene fare questa tesi sul conservatorismo? Ma io pensavo all'epoca come oggi che le idee devono essere sempre un ancoraggio saldo ed è fondamentale mantenere vive queste idee. Il conservatorismo nasce, pensate, in Svizzera, quando nella Perley Monty Society si ritrovano persone come Von Hayek, premio Nobel per l'economia, Von Mises, e quali sono i due libri di Von Hayek e Von Mises, due ebrei austriaci che scapparono alle persecuzioni razziali andando negli Stati Uniti e creando la grande scuola economica di Chicago? Sono la via della schiavitù e la burocrazia. Quanto attualità c'è in tutto questo? Voglio concludere. Perché per me è attuale il conservatorismo? Lo è soprattutto in quanto operatore dell'informazione, perché chi come me ogni giorno, quotidianamente, si scontra con la cappa del politicamente corretto, con quella pressione spesso non esplicata a pieno che significa costrizione, che significa gabbia mentale. Io dico che il partito più forte in Italia è il più PDC, il partito unico del politicamente corretto. E qui ci sono amici colleghi che sanno che cosa significa il partito e la dittatura del politicamente corretto. In tutto questo conservatore significa essere antitesi, significa essere inno alla libertà. Vi voglio lasciare con una parola, con una definizione che dà un grande sociologo spagnolo, Ortega y Gasset. Dice che il conservatore deve mettere i talloni piantati ben in terra, cioè deve piantare i suoi talloni nelle sue radici e si deve proiettare in avanti. Nelle università americane, quali sono definiti i grandi conservatori italiani? Due sono i grandi conservatori italiani, non lo dico io, ma lo dicono gli studi delle grandi università americane. Sono Dante Alighieri e Niccolò Machiavelli. Grazie.